Manuel, Luca, siamo in Name Means Nothing Non trovavamo un nome per il gruppo in realtà Un gruppo può avere il nome più figo del mondo Ma in realtà far cagare al nome non significa niente Con questa sua scusa sembra che noi siamo strafighi Esatto Prima ascoltateci e poi valutate voi Quindi se fa cagare può essere che Abbiate ragione Esatto Deathcore con influenze Musica più leggera Maiden, Metallica, Blingardian Il tuo invece è Manuel Suicide Silence, The Spaced Icon, Carnifex, Parque Drive No, 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 no 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 Siamo in Flaming Heart Vuol dire cuore in fiamme Deriva da un verso di Black Dog dei Led Zeppelin Marco, basso e tastiera Come essere sulla Sunset Strip a Los Angeles Senza la droga Venite a fare bordello Ciao, sono Matteo Mania e suono la batteria Ciao, sono Enrico Giacomelli e suono il basso Sono Alessandro Scolz e sono il tastierista Ciao a tutti, sono Enrico, voce e chitarra Lorenzo Kocciancic, chitarra The Young Line Il nome del gruppo è un tributo a Neil Young Infatti se si gira le lettere line, si fa l'anagramma e viene fuori Neil Spaziamo da tanti generi, sia la musica italiana, il rock inglese, punk, Led Zeppelin, Pink Floyd Da BB King ai Nirvana ai Pink Floyd Al blues E abbiamo voluto fare una canzone in ricordo di BB King Ragazzi, vi invito tutti il 20 giugno al contest di Seltz Goes Rock Voi sentirete la nostra musica Alla fine della serata Seltz offrirà da bere, quindi un motivo in più per venire Offro a tutti quelli che verranno da bere Pure tu Pure tu Sono Stefano Berca Io sono Davide Trono Io sono Antonio Visco Siamo i Northern Remains da Ronchi Northern Remains è un nome che abbiamo trovato ispirandoci alle immagini della Norvegia Ci hanno ispirato tante emozioni, ci hanno spinto a scrivere le canzoni che abbiamo scritto Soprattutto il nostro sound è molto scandinavo Metal Northern Remains sono ciò che è stato nell'era vichinga Non da un punto di vista puramente pagano e vichingo come nel viking metal Ma da un punto di vista più melodico I paesaggi, le notti norvegesi, le aurore boreali Io mi sono molto ispirato ai Calma, ai Winterson, sebbene finlandesi Agli svizzeri Samael, Emperor, i Satirico, anche gli Immortal E non ho delle vere e proprie band che mi ispirano Sono tante band che adoro ascoltare Qualifintro, l'ho anche io i Calma Ma quando mi metto a scrivere io ho una canzone in testa e mi metto a scriverla lì Tutti i cazzo di metallari in regione, veniteci a sentire per il debutto perché non ve ne pentirete E se non venite a sentire il nostro debutto non siete abbastanza metal Ciao ragazzi, io sono Nick Ciao, io sono Giovanni Il nostro nome Outline significa letteralmente contorno Semplicemente ci ispirava, l'abbiamo trovato a caso mentre cazzeggiavamo su internet Siamo un gruppo Hard Rock Prendiamo spunto dalle più grandi band degli anni 70-80 Che sono alla fine il nostro genere preferito Hard Rock È bello Se è lo stesso per voi Venite a vederci perché la cosa più importante è avere la gente che ci viene a sentire Rock anni 70-80 non tutti lo fanno La gente che ci viene a sentire ripaga tutto quanto il lavoro che noi facciamo in sala prove Tutti quanti gli scazzi che abbiamo avuto anche noi interni Perché non ve li sto a raccontare ma ne abbiamo avuti veramente tanti per arrivare fino a qua Sembrerà banale da dire ma veramente vedere la soddisfazione sulle vostre facce appena abbiamo finito di suonare È la cosa più bella del mondo Ciao sono Riccardo chitarrista e seconda voce Io sono Federico batterista Ciao io sono Patrick la seconda chitarra Ciao io sono Camilla e canto Ciao io sono Francesco e sono anche io seconda voce E il basso E il basso Allora noi siamo i Waiting for Friday e ci è venuta l'idea del nome perché Ciao noi siamo i Waiting for Friday e l'ispirazione per il nome ci è venuta così perché Ci piaceva Confidiamo in un buon montaggio Questo nome è dovuto al fatto che solitamente ci siamo trovati sempre per prove il venerdì Il nostro genere si basa un po' sul pop rock Un genere un po' che riunisce tutte le idee Generi hard fino a hard metal no hard sporco Fino a pop rock punk rock Veniteci a sentire il 20 giugno al sets goes rock